Innanzitutto dobbiamo valutare tutto con calma, perché è vero che è successo tutto così di un giorno all'altro e se si parla di Nesta sicuramente la cosa prende anche una dimensione grande, perché credo che Ale ha sempre avuto su tutti un'influenza molto positiva, ma non si può negare che in quest'ultimo anno, anche se abbiamo tanti riferimenti importanti in queste squadre, che sono tanti giocatori esperti, importanti, che hanno vinto tutto, campioni del mondo, però Ale quest'anno forse per la sua storia è diventato veramente un leader quasi silenzioso, solo con quello che ha vissuto e con quello che stava facendo e che forse può ancora fare, per quello è vero che incide e è già inciso, credo che lui è inciso anche nel rendimento di altri giocatori, tantissimo, e quello sicuramente è una cosa non da utilizzare, ma credo che tutto viene un po' spontaneo, è vero che la sua storia è un po' adesso dobbiamo valutare meglio, per non cadere neanche nell'errore e di cominciare a dire mille cose senza sapere bene, aspettiamo solo un attimo, ci rendiamo conto che è una cosa importante, ci eravamo resi conto che era una cosa importante, perché era tutto difficile da capire, però credo che questa squadra sicuramente matura anche per vivere tante cose che abbiamo già vissuto, troppe cose già quest'anno. È vero che abbiamo delle assenze importanti, che nelle ultime partite hanno giocato e hanno giocato molto bene, come Nesta e Bonera, che stavano bene anche a livello di forma e quello sicuramente sono mancanze importanti, però credo che abbiamo alternative valide che possono sicuramente mantenere, ed è vero anche che dover fare un cambio la mattina della partita o fare un cambio che anche il giocatore si prepara per la partita, sicuramente è diverso. Le scelte legate alla difesa sicuramente sono state molto, è stata a sorpresa, è stato non facile tante volte gestire quel momento lì e quello sicuramente incide, anche se credo che, come ho detto prima, questa partita era tanto sulla parte psicologica, a prescindere è vero, sono assenze, però a prescindere da quello è tanto sulla parte psicologica e non si può negare che questa cosa qua agisce più nella parte psicologica che nella parte tattica.